Narcisi, una prova di carattere, oggi questi tre punti erano troppo importanti e sono arrivati. Sono stati tre punti fondamentali, coronati da una prestazione importante, nel quale il gruppo ha dato una forte dimostrazione e questa è la cosa più importante. Io personalmente non ne avevo dubbi sulla professionalità, sulla voglia di questi ragazzi, non li avevo neanche quando le cose non sono andate per il verso giusto. Però questa è una squadra che nelle ultime tre partite che ha fatto ha vinto 5-0 in Coppa, domenica ha perso Spoltore prendendo tre pali e oggi ha fatto questa prestazione qui. Cioè è una squadra in salute, se poi ci si attiene sempre al risultato, magari è giusto anche che sia così. Però io penso che nelle analisi debba essere fatto dei ragionamenti che vadano a toccare più punti e non solamente quello del risultato. Dal punto di vista tattico già dalla settimana scorsa ci sono stati dei cambiamenti, di questa difesa a tre e adesso è questa la formula giusta. Ci troviamo bene con la difesa a tre, sì. Già la portiamo avanti da questa partita più le due precedenti. Ci ha permesso di acquisire più sicurezza in difesa. Però a prescindere dal sistema di gioco che poi ha il tempo che trova, quello che conta è l'atteggiamento, quello che conta è l'aggressività, l'intensità e la voglia. E oggi i ragazzi hanno messo dentro tutte queste caratteristiche e la vittoria è venuta fondamentalmente per questo. Poi il discorso tattico, il discorso tecnico è un discorso che viene solo successivamente a questi elementi qui. Tante giornate positive, oggi è una giornata no per la squadra. Sì, sicuramente. Sappiamo comunque di affrontare una squadra, una buona squadra, una squadra organizzata. Diciamo che come gioco non è che abbiamo sofferto più di tanto, però gli episodi diciamo che ci hanno girato tutti contro, perché noi comunque abbiamo creato diverse situazioni, loro sono sarebbero a sfruttare qualche errore nostro, sia sul primo che sul secondo gol. Però, ecco, diciamo una sconfitta che ci può stare. Ci può stare, l'Alto Re si è meritato e quindi pensiamo già alla prossima, perché in eccellenza le partite sono tutte difficili. Nel momento in cui cali a livello mentale, forse come abbiamo fatto oggi in certe situazioni, le partite le perdi. E quindi questa è l'unica cosa che mi fa male. Poi per il resto io conosco i miei ragazzi e so come si allenano, so quello che fanno durante la settimana, quindi ci riprenderemo sicuramente. Diceva la settimana scorsa che la squadra sta vivendo un sogno, un sogno che ha subito comunque solo una battuta d'arresto. Una battuta d'arresto che ci può stare, mi dà fastidio un po' il risultato, troppo pesante, però sono partite che sicuramente ci aiuteranno a crescere. Il mio è un gruppo giovanissimo e quindi si riparte da questa batosta. Sempre molto fiduciosi.